POTITOIS! 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 Senza papà io non posso montare questo Ma no io sono qua Non ti lascerò mai solo Allora benissimo amici Benvenuti qui su POTITOIS Da Gabriele Renzo Bravo Enzino Come sempre siccome è un bambino molto fortunato Riceve i Lego Nexonite Perché adesso mi piacciono i Nexonite E allora abbiamo qua il numero 7350 dagli 8 ai 14 anni The 3 brothers Ma lo sapete ragazzi questo Non ne la voleva prendere Mamma e papà E così ne l'ha preso la mamma Cioè la mamma Non accontenta tutti Dentro chi troviamo? Troviamo AXEL No questi qua viola come si chiamano? Mostri di pietra Mostri di pietra AXEL E l'altro E l'altro non sappiamo Non sappiamo Benissimo Qua dietro c'è tutta la scenetta Quindi noi andremo a montare questa sorta di cararmato Rusta Come la possiamo chiamare? Macchina di guerra? Si Perché c'è la catapulta C'è anche la catapulta E quindi faremo grandi cose Una cosa che mi piace è la catapulta Anche a me Anche a me Naturalmente se vi interessa sapere il prezzo e se volete acquistare questo giocattolo Vi mettiamo il link qua sotto Nell'info Info BOX 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 Bene sentiamo il rumore Ah il rumore è stressatissimo Bene bene Senti siccome è tornata la nonna chiudi la porta perché noi il romanzo non ci interessa E quindi amici iniziamo a montarlo subito Enzo come al solito monterà prima i pupassi I pupini I pupini Allora all'interno troviamo le due super ruote Guardate che belle sono sempre ben fatte le cose lego eh Un adesivo con gli occhi Le istruzioni e poi una due e basta buste Basta Una due buste e basta quindi iniziamoci Busta numero uno Ed ecco i due nexo power Uno con questa sorta di ruspa Si è una ruspa E questo qua è un serpente? Si Si un serpente che si mette a otto Oh Happy Shalalala A noi piace montare i lego Shalalala La 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 Sì E questo qua è un'espaq Grazie a tutti. Bene amici abbiamo finito questo simpatico mezzo d'assalto dei cattivi, vedete come fa quando cammina, si apre la bocca e fa così, così, così. E' bellissimo, ha i fulmini, qua c'ha le leve di comando, qua sotto potete mettere i goblin che sarebbero queste palline, queste qua si prendono e lancio. Bravo, però volevo un lancio un pochettino più, lancio, benissimo, perfetto e poi una volta che finite li mettete qua e chiudete. Questi sono gli altri personaggi, Axel, che è quello più grande con tanto di armatura, scudo pazzesco e l'altro cattivone, i cattivi della roccia, li chiama Enzo. Il link con il prezzo lo mettiamo qua sotto e noi ci vediamo presto. Soprattutto i toys. Ciao. 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 Ciao.